la mia opinione è ogni essere vivente è sacro ogni essere vivente è sacro tu sei sacro io sono sacro ogni essere vivente è sacro la parola sacro dà valore a qualcosa per cui sappiamo che nel mondo ci sono a seconda delle varie religioni delle varie credenze e dei luoghi sacri luoghi con migliaia o milioni di persone che vanno in pellegrinaggio in quei luoghi ci sono degli oggetti sacri ci sono i paramenti sacri se non sapete cosa vuol dire paramenti sono i vestiti i vestiti che indossano i sacerdoti che vengono anche chiamate ministri di culto la parola non so se la conosceva ministro di culto sacerdote per la parola sacerdote già implica una persona sacra una persona che si occupa di funzioni liturgiche che variano in varie popolazioni varie culture in varie parti del mondo ma il mio punto è ogni essere vivente è sacro qui un bambino che nasce è sacro la bambina che nasce è sacro ogni essere umano che nasce è sacro per me sono sacri anche esseri viventi che non hanno la forma umana ma come mai certi luoghi certi oggetti sono più sacri di altre i paramenti sacri i vestiti sacri ma non c'è un detto che dice l'abito non fa il monaco per curiosità sono andato a vedere su internet paramenti sacri e c'è un sacco di vendite online i nostri tessuti sono i migliori nel nostro abito ci sono dei fili d'oro il costo cioè è tutta un'industria del paramenti sacri vestiti sacri e poi non c'è da mangiare per le creature di dio i figli di dio ogni tanto qualcuno mi ha scritto ma tu credi non si capisce se tu credi in dio no ma cosa c'entra che io credo in dio il fatto è che ogni essere vivente è sacro se è una creatura di dio è sacra se figlio di dio è sacro e se è un prodotto dalla natura senza dio è sacro la sacralità in india ci sono dei canti che vengono chiamati sacri mantra ci sono anche dei canti sacri qua volevo leggervi non so se siete andati da bambini ma lo sono riscritto così perché me l'ha fatto dire da bambino avete in mente l'atto di dolore non so se a voi ve l'hanno fatto dire a me me l'ha fatto dire dice mio dio mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati perché peccando ho meritato i tuoi casteghi e molto di più perché ho offeso te infinitamente buono è degno di essere amato sopra ogni cosa propongo il tuo santo aiuto di in offender di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato signore misericordia perdona me o gesù d'amore acceso non ti avessi mai offeso o mio caro e buon gesù con la tua santa grazia non ti voglio offendere più perché ti amo sopra ogni cosa bicchier d'acqua ma tu quando eri piccolo quando eri piccolo piccolo ma te l'ha fatto ripetere a me si ma dicevo mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati mi chiedevo ma quali peccati insomma vado a scuola la mattina devo fare un po' di compiti il pomeriggio perché peccando ho meritato i tuoi castigli l'ira di dio ma quali castigli allora se qualcuno mi vuole scrivere dice sì io credo in dio ma in quale dio dovrei credere in questo quello dell'atto di dolore è molto più cioè perché peccando ho meritato i tuoi castigli molto di più perché ho offeso te infinitamente buono ma allora se è infinitamente buono che castigli dà mi dolgo mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati ma di quali peccati stiamo parlando ma io andavo le elementari ma di quali peccati esempio a voi vi hanno parlato dei sette sacramente io ho fatto un video che siamo a proprio sette il numero sette ricorre anche sette note sette anche sacramente battesimo cresima comunione penitenza estremunzione ordine matrimonio ma chi ha deciso che sono dei sacramente io rimasi molto sorpreso quando mi hanno detto che grazie alla cresima ero diventato un soldato di cristo mi hanno detto proprio cos'è adesso sei un soldato di cristo soldato bambino di cristo io non sto criticando io sto dicendo ma perché nei bambini nelle bambine mettono queste idee questi condizionamenti ma perché non viene insegnato che ogni essere vivente è sacro un essere vivente più importante di un luogo di un oggetto di un vestito la vera funzione liturgica è da da mangiare a tutta l'umanità la vera sacralità è da da mangiare a tutte la vera messa in onore di dio è da da mangiare a tutti nessuno deve soffrire non è che posso accettare che uno c'è il calice d'oro beve il vino benedice non è che voglio essere blasfemo ateo è che io credo che ogni essere vivente è sacro ogni essere vivente è sacro provate a ripeterlo a qualche parente amico collega compagno di scuola ogni essere vivente è sacro se guardate perché bisogna guardare io guarda qualche programma televisivo si basa tutti sugli ospiti oramai i programmi televisivi si basa quello che un'altra si chiama presentatore adesso si chiama conduttore e la sua cerimonia è di avere ospiti dicendo un grande della musica un grandissimo della musica un grande dello sport ti presentano delle persone umane come me come te però loro sono i grandi 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 e tu che guardi questa gente come ti senti quello un grande perché ha scritto una canzone un grande perché ha fatto un ferro un grande perché salta in alto salta in alto salta un altro perché corre più veloce degli altri allora un grande un grande vuoi la pace mentale vuoi vivere in modo spirituale registra ogni essere vivente è sacro ogni essere vivente è sacro quindi togliere la pelliccia a un essere vivente per indossarla togliere il suo corpo la sua carne per mangiarlo quando si può fare a meno o gli esseri umani considerarli inferiori inferiori o prendere dei bambini delle bambine e fargli ripetere mi hanno fatto ripetere mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati perché peccando ho meritato i tuoi castighi ma atto di dolore mio Dio mi pento ma di cosa devo pentire io l'ultima volta che andai a confessarmi avevo 14 anni non ricordavo di avere peccato e sono stato rimproverato ma dal prete poi sono più andato cosa hai fatto? confesso i tuoi peccati ma quando li faccio? dicevamo quando li faccio? la mattina andavo a scuola stavo pensando peccato che devo andare a scuola quello è il peccato pomeriggio cosa devo fare? a me piaceva leggere lei oltre ai libri di scuola leggevo tanti libri tanti libri leggevo tutti quelli che trovavo andavo nelle bancherelle di libri usati che c'erano a Milano vicino a dove abitavo ce ne erano, adesso non ce ne sono più ma c'era una bancherella di libri usati trovavo della roba interessante la compravo a prezzi così ma leggevo ho trovato una copia del libro tibetano dei morti in una bancherella pubblicato nel 1939 tradotto dal tibetano da Giuseppe Tucci il libro tibetano leggevo quelle cose vedo che i miei coetanei vivevano in un'altra dimensione avevano anche loro ripetuto l'atto di dolore non so se a voi vi hanno fatto battere il petto anche in latino ma di che cosa? ma perché colpa? come si fa a dire a un essere vivente piccolo che sta crescendo battiti il petto di colpa peccati, castighi, l'ira di Dio atto di dolore facciamo un atto di vita facciamo un atto d'amore facciamo quello che verrebbe naturale a ogni essere vivente che viene concepito cresciuto alimentato con amore andiamo d'accordo facciamoci del bene creiamo un campo di buona energia creiamo una comunità spirituale dove non è che la comunità spirituale solo se ci sono i monaci i sacerdoti i preti le suore o in altre religioni l'amano esseri umani consapevoli una comunità di esseri umani consapevoli dove ogni essere vivente è sacro e i rapporti umani si chiamano amore amicizia e buone relazioni d'accordo? se sei d'accordo di in giro ogni essere vivente è sacro quindi quando la cucina è libera dalla violenza quando i frigoriferi sono liberi da brandelli di corpi marittimi pesci terrestri o volanti esseri che volano massacrati uccisi ma com'è possibile? c'è qualcosa che che è un velo di ignoranza un velo di rabbia qualcosa che è sbagliato alle radici perché ogni essere vivente è sacro possiamo chiamare un luogo sacro un oggetto sacro ma soprattutto ricordiamoci che ogni essere vivente è sacro ti ringrazio per ascoltare in fondo noterete che c'è l'annuncio che potete dare il 5 per mille a una ONLUS che ho creato insieme a degli amici si chiama Libera Condivisione che aiutiamo aiutiamo stiamo aiutando in varie parti del mondo chi ha bisogno ogni essere vivente è sacro